Quindi adesso c'è l'ancora Lukaku per l'Inter? Cioè, nel senso, qual è la situazione? Cioè, non so, non so, è la sensazione mia, dico adesso, aspettano, è tutto su Lukaku e proprio devo prendere un peso di posizione anche secondo te la squadra. Secondo me l'errore sarebbe pensare che Lukaku risolve i problemi. Eh, infatti, questo che dico...